azione partito no scusate stop no no raga ripartire subito partito fammi vedere devo fare uno sguardo decente vai no è pesce less no non devi dire ci siamo è bello che tu sia mi faccia no no eduardo dove stai guardando? al seno paolo la zip io la zip ma tutti e due o l'uno o l'altro guarda di fronte a te questa è sta posa finale paolo comincia abbassato sulle ginocchia e poi ti alzi man mano? ok poco poco ok azione qua qua guardami qua qua alla tua destra alla tua destra in fondo ok questo è successo questo è successo no no non lo farà adesso no azione però io non so come fare è un playback sbattiti ora anche se non so come fare an allora Sì